Ciao, un giorno molto presto usciremo finalmente dalle nostre case e saremo in grado di goderci la nostra vita. Affrontare questo con il pensiero positivo che andrà tutto bene è sicuramente uno dei modi migliori. La riflessologia ti può aiutare in questo perché oltre al tocco sul piede lavora molto più in profondità andando ad abbracciare la salute, il benessere, la serenità. Ciao, io mi chiamo Marina, sono una riflessologa di Ravenna in Italia e posso aiutarti a mantenerti in salute. Fidati della riflessologia, provala!